Partiamo forse dal rammarego per non averla portata a casa, non avendo costruito tanto nel secondo tempo in superiorità numerica? Sì, vero. Dopo aver pareggiato la partita non siamo riusciti a entrare con più frequenza all'interno delle loro maglie difensive. Abbiamo scelto a un certo punto di metterci con Bozic e Clemenza più Marilungo e Ferrari nel gioco dei cambi, perché l'intenzione era quella di vincerla. Però forse qualcuno è calato, tre partite in sette giorni, quindi in alcuni momenti non siamo stati lucidissimi, anche se abbiamo creato delle situazioni importanti dove ci è mancato l'attimo fuggente, ma come nel primo tempo. Nel primo tempo ancora di più, perché... Rauti due volte. Rauti, ma dei marchi, quando si allunga la palla. Non siamo riusciti a dare la palla a compagni soli che sarebbero stati davanti al portiere. Abbiamo commesso da quel punto di vista errori imperdonabili. Poi è chiaro che se fai quel tipo di errori non vai neanche alla conclusione, però abbiamo fatto una buona gara. In questo momento va bene così, perché poi abbiamo affrontato anche una squadra di valore. Non è che il Siena sia una squadra scadente, avevamo qualche senso. Adesso recupereremo tutti piano piano e troveremo la quadratura del cerchio, perché in mezzo al campo hanno fatto bene tutti e tre. Ehm, Musciai, Rizzo e Pompetti. È chiaro che forse perdiamo qualcosina dal punto di vista della spinta offensiva, però vedremo. Adesso strada facendo. Questa è una squadra che ha valore, che ha consistenza. Io sono sicuro che noi troveremo la quadratura del cerchio. E siccome di tempo ce n'è tanto, insomma, andiamo avanti. È la seconda partita, o mi sbaglio, Auteri, che i cambi non le danno quello che magari lei immaginava? Sbaglio? Guardi, Clemenza era fresco, Bosic è un giocatore fresco, perché poi quando si giocano 20 minuti e la partita precedente di Ferrari lo sapevo già che non sarebbe stato in grado di fare 90 minuti alla terza partita con grande intensità, però 50-60 minuti sapevo che era in grado di farlo così come ha fatto. Qualcosina in più potevamo fare, ma diciamo che non è che è mancata la volontà o la determinazione. Non abbiamo agito correttamente, non abbiamo trovato gli spunti adeguati, però ci abbiamo provato fino alla fine. Sul modulo iniziale, lei ha detto che hanno fatto molto bene i tre centrocampisti. Io aggiungo che è stata forse la prima partita, se leviamo quei 4-5 minuti dopo l'espulsione del giocatore del Siena, dove veramente il Pescara si è un po' blindata, ha trovato compattezza. È d'accordo? E che cosa è successo in quei 6-7 minuti? Allora, in quei 6-7 minuti abbiamo preso 2-3 calci d'angolo consecutivi, perdendo le marcature e consentendo di quelle. Questo è quello che è successo. Non sono stati quasi mai in quei 6-7 minuti conseguenza di aggiramenti con la palla in gioco, tutti sviluppi di palla inattiva in cui purtroppo abbiamo perso la marcatura in area di rigore. Per il resto, anche oggi, in alcune situazioni abbiamo commesso gli stessi errori che abbiamo fatto precedentemente, quando forziamo la giocata, quando arriviamo negli ultimi 20 metri e vogliamo per forza di cose andare a giocare, e quindi forzare la giocata nella densità, nell'imbuto centrale, ci esponiamo a qualche rischio, perché più facilmente la palla può essere intercettata. Eppure oggi, in qualche situazione, ci hanno preso un po' di campo. Come altre volte, in quelle situazioni, poi siamo bravi a chiudere, perché difficilmente... Ma oggi non ho visto i pericoli tra le partite di Gennaro, se non quei minuti. Ci sono state, in quelle situazioni, se lei va a rivedere la partita, sono state 2-3. E dipendono soltanto da quello che gli ho detto, da sviluppi di gioco in nostro possesso, in cui a un certo punto giochiamo un po' troppo, invece di andare dentro, e poi a un certo punto, quando decidiamo di forzare la giocata, la andiamo a forzare centralmente, senza prendere l'ampiezza del campo. Ed è chiaramente l'avversario fa densità lì, e ci esponiamo a qualche riconquista da parte dell'avversario. Ultime due brevi da parte mia. La prima, il Pescara sta sempre più indietro in classifica. Dall'alto della sua esperienza, se la sente di dire che c'è margine per ritornare sotto? Ma sta scherzando? Ma certo che c'è margine. Noi adesso non dobbiamo pensare a nulla, dobbiamo pensare a migliorare, a crescere, a evitare quei difetti che abbiamo manifestato e a essere perseveranti. Io non conosco altre ricette che non quelle del lavoro, ma i campionati dopo un terzo non si decidono mai. È chiaro che dobbiamo inseguire un filotto di vittorie, non lo so quante, ma questo è fondamentale. Poi magari appena verrà, mi auguro presto, poi dopo alzeremo la testa, ma di sicuro i campionati non si decidono. L'ultima proprio da parte mia, Auteri, è chiaro che la situazione di Galano è sulla bocca di tutti e merita un'attenzione particolare. Un giocatore con quelle qualità, se dovesse risolversi tutto, lei è sempre pronta ad accogliere? Ma lei pensa che io potrei fare questo lavoro vivendo di fatti personali? No, 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 nessun fatto per sé, se secondo lei è una situazione che si può... Io aspetto tutti a braccia aperte, dipende soltanto da quello che vogliono fare loro. Io vado sulla meritocrazia, sul lavoro in campo, sulla quotidianità, sull'essere in sintonia con gli obiettivi di tutti, perché quello... Quindi aspetta anche Galano a braccia aperte. Però voglio vedere, io non è che voglio soltanto... Una domanda da studio che deve andare via Auteri. La domanda da studio la faccio fare naturalmente al nostro Fabio Ferraresi. Mister, no, le volevo chiedere, quando nel secondo tempo lei ha provato a mettere in campo tutto il potenziale offensivo, si aspettava magari di creare qualcosina nella parte centrale del campo con il tre quarti e la prima punta che magari scambiavano e mandavano dentro gli esterni oppure in quel momento l'ha cercato di dare la massima ampiezza e con i terzini magari di mettere qualche cross e mettere in difficoltà la difesa del Siena? Tutte e due le cose, perché... Tutte e due le cose, perché insomma... Riusciamo ad arrivare con facilità nella loro metà campo. Intendevo prendere ampiezza con Clemenza e Bosic, che sono giocatori che nell'uno contro uno appena hanno un po' di spazio ti possono fare male. Intendevo far muovere un po' meno Ferrari mettendo un giocatore come Marilungo, Frarilini a destabilizzare il loro assetto difensivo. Non sempre siamo stati bravi nel fare queste cose. A volte abbiamo preso l'ampiezza e siamo entrati pericolosamente in aria, però poi ci è mancato l'ultimo tocco, l'ultimo passaggio. Un paio di volte l'ha fatto Bosic, un po' meno Clemenza. Questo era l'obiettivo. Loro chiaramente si stringevano, venivano a giocare negli ultimi 20 metri, chiudendo le diagonali difensibili, però sull'ampiezza potevamo entrare.